ciao mi chiamo andrea sono soccorritore da 11 anni in questa associazione ci sono capitato non dico per caso ma proprio perché un grande amico nonché soccorritore di questa associazione da 30 anni da più di 30 anni e mi ha convinto ad arrivare qua era già una mia idea fare il soccorritore ma lui mi ha dato la spinta necessaria per arrivare in questa grande associazione un'associazione che non fa solo soccorso ma fa anche trasporti anche un centro prelievi e tanti servizi e corsi per la comunità cosa posso dire sono entrato in una grande famiglia tanti ragazzi tanti uomini e donne che hanno proprio voglia di fare questo questo tra virgolette lavoro ma che lo fanno con con una grande una grande voglia una grande come posso dire gioia una grande gioia anche per me vale questo devo dire che oltretutto oltre ad aver trovato grandi amici o anche trovate in questa associazione quella che poi è diventata mia moglie anche lei volontaria siccome questa associazione vive dei propri mezzi oltre a tante donazioni ci può essere utile che voi doniate anche il vostro 5 per me questo per per continuare questa grande esperienza questa grande iniziativa ciao